Presidente Serachiani, la Roncadina SPI è un esempio di azienda virtuosa che in Friuli, Venezia e Giulia nel 2014 ha prodotto un fatturato di 78 milioni di euro con una produzione di 63 milioni di pizze, quindi il 70% all'estero e il 30% in Italia, decisamente numeri importanti. Assolutamente, numeri di cui essere orgogliosi, naturalmente si tratta di una realtà industriale che ha un percorso anche familiare che viene da lontano, ma insomma io credo davvero che il lavoro che è stato fatto soprattutto negli ultimi sette anni di investimenti, di ricerca di mercato, di consolidamento e anche di volano occupazionale per un'area come questa assolutamente importante e credo che faccia di questa realtà una realtà di cui essere assolutamente fieri nella nostra regione. La regione in questo modo può anche intervenire per aiutare a crescere ulteriormente la Roncadina SPI? Il rilancio impresa in questo senso dà ottime prospettive alle aziende, soprattutto ad aziende come queste che hanno piani industriali interessanti, che vogliono espandersi, assumere nuovo personale. Possiamo fare un investimento sia sulla formazione, sia anche e soprattutto proprio sulla possibilità di inserire strumenti importanti, penso a Friuliam, insomma anche al Frie, nella capacità di ampliamento dell'azienda. Insomma è una regione che può dare delle risposte importanti agli imprenditori e questa è un'impresa che guarda molto lontano. Dario Roncadina, amministratore unico della Roncadina SPI, come non essere soddisfatti di una crescita che dal 2000 a oggi ha prodotto risultati molto importanti? Beh, fin dall'inizio ci abbiamo messo tanta passione ed è quello che porterò avanti anche nei prossimi anni perché l'obiettivo è quello di crescere e non fermarsi mai in innovazione, in prodotto, in qualità e portare la nostra pizza in tutto il mondo. Nell'immediato quali sono quindi i punti di riferimento più importanti per il vostro sviluppo? L'importante oggi è sviluppare altre linee, acquisire un secondo sito produttivo per dare una garanzia, una stabilità ai nostri clienti che chiedono il nostro prodotto fatto in Friuli, fatto con l'acqua delle Odomiti, con la passione e la qualità che ci mettiamo ogni giorno. Quanto è importante il Made in Italy per il vostro prodotto e la vostra commercializzazione? Sempre di più perché comunque riconoscono la qualità della pizza italiana quando vengono anche in ferie in Italia, la assaggiano e vogliono riassaggiarla anche all'estero e a casa quando torna. Presidente Serracchiani ancora sul Made in Italy. Quanto è importante difenderlo? Beh, difenderlo è importante ma soprattutto renderlo di grande qualità perché il Made in Italy ha già una prospettiva importante, l'avrà sempre di più. Ovviamente parliamo di un mercato di qualità, di prodotti certificati, insomma anche della capacità di riuscire a investire nel nostro paese. Questa azienda per esempio lo fa da tempo e credo che i risultati si vedano.